Dopo il flop di ascolti della puntata d'esordio, il reality show di Alessia Marcuzzi corre ai ripari, e si prepara a traslocare a partire dalla seguente settimana Quindi, arrivederci alla programmazione del giovedì sera, essa si è rivelata un vero disastro, almeno in termini di audience Basti pensare che davanti agli schermi si sono posizionati ben 306 milioni di spettatori pari al 18 27% di Share. Il motivo è da ricercarsi nello scontro con la concorrenza della celebre fiction che Dio ci aiuti 5 Nel prossimo paragrafo vi svegliamo la nuova programmazione dell'Isola dei famosi 2019 Programmazione Isola dei famosi 2019. Non va più in onda il giovedì sera.Giovedì 31 gennaio, l'Isola dei famosi, andrà in onda regolarmente in prime time Tuttavia, la trasmissione di Canale 5 torna in prima serata anche domenica 3 febbraio a distanza di pochi giorni La dottoressa Gio, invece, slitta a martedì 29 gennaio. Infine, il reality di Alessia Marcuzzi verrà trasmesso il prossimo 10 febbraio In questo modo si andrà ad evitare lo scontro con la chermesse Canora. Quest'ultima andrà in scena dal 5 al 9 del mese venturo È bene precisare che si tratta di una misura prettamente temporanea. L'Isola dei famosi, dovrebbe tornare nuovamente a giovedì sera a partire dal 14 febbraio, salvo cambi d'idea della Mediaset Anticipazioni Isola dei famosi 2019. L'arrivo di Joe Squillo.Nei prossimi appuntamenti, il reality entrerà nel vivo Presto scopriremo il nome del primo naufrago eliminato. Ci sarà anche l'entrata in gioco di Joe Squillo Quest'ultima non è potuta sbarcare nella prima puntata a causa della morte improvvisa dei suoi genitori Proprio come accaduto all'Uri del Santo, Joe ha espresso la volontà di approdare in Honduras Potrebbe accadere la medesima cosa anche con Gerenias Rodriguez. Il fratello di Belena, avrebbe dovuto far parte del cast, ma si è infortunato ad una mano Tuttavia, questi dubbi verranno sciolti soltanto nelle prossime settimane. Non resta che attendere ulteriori sviluppi per scoprire, quale sarà il destino dell'Isola dei famosi 2019 .